Ecco, semplicemente, faccio parte dell'amministrazione dal 1990 e quindi ho partecipato ormai a 30 manifestazioni del 25 aprile, sempre presente. Ditevo che questa manifestazione rivesta una importanza particolare a tutti quanti noi ci teniamo. Non abbiamo abitudine licenziare un giorno come questi, come così, purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù, anche se avrei tante cose da dirvi, in ricordo di questa commemorazione dovuta, a cui io tengo, a portare la rivelazione è un motivo di dovuto, di grande riconoscenza e lo dobbiamo assolutamente dimenticare. Non dico altro perché ho preso l'impegno di non fare comizi, di non fare adunanze, di non fare cortei, di non fare nulla. Però ho pregato il nostro amico, amico di tutta l'ampia associazione dei partigiani, perché intanto mi lega una grande amicizia, un grande affetto con lui e con tutta la famiglia. e ho voluto che fosse presente perché volevo pregarlo di dire lui quattro parole a nome di tutti, quattro parole a nome di tutti come associazione a cui noi tutti quanti naturalmente ti ascoltiamo con vero piacere e con vero interesse. Quattro parole, semplici e semplici. Com'è servito di te? Ebbè Tano, io mi sento buongiorno a tutti, perché questo invito che abbiamo ricevuto, abbiamo perché io, come io, ce l'ho venuto qua, 20.000, la grandissima scuola, e io l'ho vissuta assieme anche a tutti, e io, molto umidente, mi sento molto legato alla nostra, dove ho avuto tutti qui, anche a chi non voleva attirare le differenze che passavano. Avete preso il tuo posto? Io non ho preparato nulla, non pensavo che mi dessi anche la parola. Io non ho provato, quindi Tano, grazie infinito, c'è stato un piccolo incidente tra noi, tu sei sempre stato, sei stato avanti da 20, 30 anni fa, hai un passato anche, come sappiamo, tramite l'equipo, ho trovato dalla reggiatura di uno scollino che ha pagato con la pelle, e quindi sono stato, mi sono piacchia, sono stato. Noi l'abbiamo vissuta a grandi miei, posso andare anche un po' qui là, se cerco la tempo immagino, e noi dobbiamo farlo. Mio papà era uno degli ultimi di Sardano, Sardano è stata l'ultima città, la parola di Roma, e mio papà era uno di quelli che si è portato assieme all'ex sindaco di Sardano. Io vedo che ho parlato al sindaco di Sardano, ma ho fatto un processo ancora, dicendo che non entrava nei meriti politici. Dicevo che Sardano si comporta come mio cugino comandante della divisione, è successo un fine in buono. È vero, è vero, il tuo impegno ti metti nelle cose, non fai niente di volentieri. Quindi c'è un amministratore, da un'equipo di galantuomini è passato ad un'altra ricerca di galantuomini. Io conosco di Vila, peccato venizia, vi devo tanta ancora di conoscenza di Vila, perché quando siamo andati nel terremoto dell'Ottanta, Vila ci ha provvuto un uomo e un materiale più parecchio, e quindi è una grande ricerca. Il mio papà è venuto a Vila e ho trovato una felice di Vila, uno degli ultimi revisioni di Sardano. La pianto lì perché se no, se no me l'avevo metterlo, sono ancora fino a domani mattina. Quindi, io ho vissuto anche ultimamente con le ragazze con la scuola di Sardano. Abbiamo fatto una bellissima film, l'hanno fatto tramite Barella, ed è venuta la vostra Mabel, bellissima presenza, poi è venuta questo filmino è finito poi a Rona, e quindi io mi sento onorato. Quindi grazie Tano, poiché lo sa che ti vogliamo dire. Giacomo, naturalmente non è un'occasione dovuta, però non c'è una frattura tra la passata amministrazione e la nuova, è una continuità. Galatuomini prima è una continuità tutti quanti siamo, abbiamo qualche idea di cosa, però ci rispettiamo e sappiamo che non andiamo oltre, ci limitiamo a fare un discorso più che è politico e amministrativo, quindi non c'è nessuna difficoltà a accettare quello che era prima e che è adesso. Magari la prossima volta ci sarà, probabilmente, un cambio. Cosa vuol dire? Tutto può, è i cittadini che decidano. Però sappiate che per quanto ci riguarda, posso parlare anche a nome del mio vice sindaco, questo, assolutamente non c'è niente, c'è una continuità amministrativa, finalizzata sempre a cercare di fare il bene esclusivo della città di Ventimiglia e dei suoi concittadini. C'è chi la pensa in un modo, a livello programmatico in un modo e c'è chi la pensa in un altro. Però vedo che c'è una grande affabilità e c'è una comprensione reciproca e io spero che si vada avanti così, sempre con questa armonia. Vi ringrazio di aver partecipato a questa cerimonia che neanche si può chiamare tale. È solo un ricordo di questo giorno a cui noi tutti siamo legati e non potevamo non mancare. Ho invitato Carlo, ha detto due parole. Io lo ringrazio molto. Questa volta mi è uno di te. Ho invitato il dottor Ioculano con vero piacere, come lei doveva venire, assolutamente. ringrazio tutti. È una cerimonia conclusa nella speranza che l'anno prossimo facciamo qualcosa di diverso. E questo qui sarebbe sicuramente qualcosa di diverso. E siamo impegnati anche a ricordare il nostro amico Paganelli. Vediamo come possiamo fare per ricordarlo. Buon 25 aprile a tutti. Grazie. Grazie. A presto. Grazie. Grazie a tutti.